Città di bandiera blu, arte e storia, piano di Sorrento esposti per la prima volta ai reperti archeologici rinvenuti nelle antiche necropoli del territorio. Antonella Fracchiolla. Ti è rivelato uno scrigno preziosissimo per la comprensione proprio di tutta la storia della penisola sorrentina. Perché? Perché è stato sigillato dall'eruzione del 79 d.C. e noi abbiamo avuto modo di descrivere e documentare tutte le fasi di occupazione del territorio. Sono inediti i reperti archeologici in mostra nel Museo Georges Vallée di Piano di Sorrento rinvenuti durante le campagne di scavo condotte a partire dalla fine degli anni 90. Arrivano dalla necropoli arcaica e classica venuta alla luce a Piano di Sorrento nella località detta Trinità e raccontano i rituali e la cultura funeraria nella penisola sorrentina. I corredi funerari esposti vanno dal VI al IV secolo a.C. con le diverse modalità di sepoltura, il rituale dell'inumazione in cassa di tufo con corredi costituiti da vasi di impasto e bucchero nel IV secolo. Successivamente invece entrano in gioco influenze elleniche con le ceramiche a figure nere di importazione attica. La mostra è anche multimediale. È iniziativa del Polo Museale Campano assieme al Comune di Piano di Sorrento che molto ha lavorato anche per il recupero di Villafondi, sede del museo e dei giardini affacciati sul mare. Dopo anni difficili museo e villa hanno riaperto nel 2017. Villafondi con il Museo Georges Vallée rappresenta una realtà adesso non solo per il Piano di Sorrento ma per tutta la penisola sorrentina. Tanti sono gli abitanti che stanno scoprendo quella che è la nostra storia che è custodita nel nostro museo ma anche tanti ospiti che vengono da tutte le parti del mondo.